Cari amici, senz'altro ricordate cos'è successo quando il cardinale Ratzinger è diventato papa a Benedetto XVI. Gli intellettuali ogni volta che apriva bocca ci tenevano una lezione tra la separazione tra Stato e Chiesa, ineccepibile, e ritenevano che praticamente ogni parola pronunciata da Benedetto XVI, che aveva fama di essere conservatore, fosse un'infrazione appunto a tale separazione e quindi fosse da condannare perché il Vaticano non può entrare nelle questioni politiche dell'Italia. Naturalmente questo coro si è affievolito e poi immediatamente spento quando il successore di Ratzinger, cioè Bergoglio, Francesco, ha mostrato di avere idee invece molto concilianti verso la sinistra. Ma quello che è accaduto in questi giorni con il cardinale elettricista che va a pagare le bollette alle case occupate dovrebbe indignare proprio quelle persone che non lasciavano passare una a Ratzinger, invece sono scomparse. Niente, anche gli amici liberali, silenzio totale, come se nulla fosse, come se fosse normale che un cardinale infranga la legge italiana. Di fronte al cardinale elemosiniere ed elettricista la laicità dello Stato può andare a farsi fotte.